Oh, Palmiro, ti presento mia mamma. È venuta a darmi una mano con i vestiti per i poveri. Donne d'altri tempi, sempre più rare purtroppo. È un privilegio averla qui con noi. Peccato che abbiamo quasi finito e che quindi, mamma... No, 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 sarebbe veramente un peccato. In parrocchia non mancano le occasioni per dare una mano. Avremo proprio bisogno di un aiuto. Palmiro, ma che fai? Ci provi con mamma? Non so, Pia, io non mi permetterei mai. Ecco, sarà meglio. Sei in vergogna. Ven conmigo. Scusate, tolgo il disturbo. Carino il Palmiro. Mamma! In famiglia è una sua ora. Basta e avanza. Tu come lo vedi il Paradiso? Non lo vedo. Si dice che vedremo Dio. Così pare. E se non ci fosse Dio? In che senso? Voglio dire, se invece del nostro Dio ce ne fosse un altro? Tipo? Tipo Odino, il Dio vichingo. Alto, biondo, occhi azzurri, virile, tutto muscoloso. Adesso lo vedo. Il Paradiso. Tipo Orlais ho dicono Grazie a tutti